ciao a tutti ragazzi bentornati bentornati su nerdattitude oggi un video fuori dalla programmazione e video molto molto breve vi dico perché ho diciamo alcuni annunci che poi annunci per la verità non sono il primo ringraziamento volevo ringraziare luca di giacomo antonio luca dj storie dell'altra vita vi lascio il link del suo canale in descrizione ma è famosissimo quindi sicuramente lo conoscerete tutti quanti perché perché avevo noi abitiamo nella stessa città all'aquila e avevo in mente da prima di aprire il canale youtube in realtà perché lo seguivo anche da prima di fargli un piccolo regalo perché insomma avevo visto che c'erano molti interessi in comune avevo pensato di appunto di portarli avevo visto che lui ha perso molto della sua collezione per nel terremoto dell'aquila e avevo due albi di dragonero numero zero allora avevo pensato di appunto di regalargliene uno perché in un video lui diceva appunto aveva perso la collezione non li ritrovava più siccome l'albo numero zero è un albo che abbastanza raro ripeto io ne avevo due avevo deciso di regalarglielo e con l'occasione gli ho regalato qualche fumetto anche ai meravigliosi marco e anna e mi fanno sempre morire dalle risate sono contentissimo che due ragazzi così giovani siano appassionati alla lettura quindi qualche giorno fa sono andato nella nostra fumetteria di fiducia ho lasciato un pacchetto lì da da max che poi lui ha ritirato mi ha ringraziato su instagram fatto il video cosa che non mi aspettavo sinceramente addirittura il video e quindi questo diciamo che è il ringraziamento del suo ringraziamento mi fa molto piacere ripeto non mi aspettavo che facesse il video mi ha fatto veramente veramente molto molto piacere perché poi insomma comunque ci sentiamo anche per peraltro ogni tanto quindi come dicevo già in un video precedente con tg nick è molto bello che si creano questi rapporti anche fra noi che portiamo questo tipo di video quindi di nuovo ringrazio luca ringrazio anna ringrazio marco per il video che hanno fatto sullo spacchettamento di appunto dei regali che gli avevo fatto li ringrazio veramente tanto e spero insomma di che continuerò a seguire tutti i loro video come come sempre quindi mi fa molto piacere questo era il primo diciamo il primo ringraziamento il secondo che è un annuncio vi dico che sto aprendo il canale twitch ho visto che molti appunto tra cui luca infatti spero penso di chiedergli qualche qualche consiglio per l'apertura del canale appunto vorrei aprire il canale twitch perché ho visto che le live funzionano meglio su appunto su su switch quindi magari vi appena aperto vi farò la comunicazione può darsi che lo troverete già aperto nel momento in cui vedete questo video in caso appunto abbia sistema tutto quanto vi lascio sempre appunto il link in in descrizione mi raccomando iscrivetevi potremmo appunto né durante le live parlare di tutto di più di fumetti di manga di funk o pop di action figure di toy story di video games di tutto tutto quanto poi magari con l'andare del tempo portare qualche gameplay magari in live piuttosto che come vi avevo detto su youtube ho visto degli annunci clamorosi tipo far cry 6 io sono un appassionatissimo del di tutti far cry ho giocato praticamente a tutti quanti e sto aspettando far cry 6 che c'è il mitico giancarlo esposito di breaking bad better col sole è un attore che mi fa impazzire ho visto il trailer è clamoroso allora ragazzi piccolissimo taglio perché mi scordo sempre di controllare la carica dello smartphone prima di prima di registrare quindi è morto lo smartphone comunque riprendendo il discorso dicevamo che la mia idea appunto era quella di aprire il canale twitch ripeto siamo ancora insomma con non penso di fare i grandissimi numeri all'inizio ma come vi ho già detto l'importante è fare una chiacchiera anche se siamo due tre quattro non è quello lì insomma l'intento di fare i grandissimi numeri l'intento di condividere le passioni parlarne giocare insieme chiacchierare eccetera eccetera quindi appunto l'idea è quella di aprire il canale per fare sia chiacchierate nerd sia gameplay o altro invece magari di portarli qui su youtube quindi mi raccomando ripeto se riuscirò appunto ad aprire questo canale eccetera eccetera troverete link in descrizione quindi mi raccomando iscrivetevi poi perché amazon prime l'iscrizione è gratuita insomma ci sono diverse cosettine ma vedremo tutto quanto successivamente quindi io vi ringrazio per avermi seguito in questo breve video ringrazio di nuovo luca anna e marco per il video che hanno realizzato dell'unboxing del del pacco che gli ha mandato grazie grazie mille davvero e vi ricordo appunto il canale twitch queste sono state le due due annunci i due annunci di oggi quindi vi ringrazio di nuovo se il video vi è piaciuto per supportare il canale lasciatemi un like seguitemi alla pagina instagram nerd attitude e mi raccomando mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale cresciamo sempre di più grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao